Abbonamenti chiocciola artein.it Artein, l'arte come non ve l'hanno mai raccontata. Cari amici, va ora in onda proposte di investimento a cura di Francesco Boni che vi consiglierà le opere d'arte più preziose sia per le vostre collezioni che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Chirico lo conosce, quindi sai, sono quei quadri che proprio, questo è il quadro che era appeso in casa di Chirico, capite? Il tema è proprio quello del mito di Apollo, questo mito che va dal bene al male, dalla giocosità all'ironia fino alla vendetta, quindi questo mito molto discusso, che si identifica poi con le caratteristiche dell'essere umano, che si identifica proprio con le… De Chirico aveva questa adorazione, quindi pensate voi la mia emozione nel rivedere quest'opera, o con la stessa cornice, che è una cornice antica, una cornice settecentesca, che De Chirico aveva fatto fare ad un corniciaio che io conoscevo molto bene, che aveva la sua bottega in via Mario dei Fiori, quindi proprio vicino Piazza di Spagna. Quindi una di quelle opere che ti colpiscono da dentro, una di quelle opere che ti fa ricordare i mille episodi, tutti i contatti con Giorgio di Chirico, la mia ammirazione per Giorgio di Chirico, io lo vidi per la prima volta dai russo, dai che lavorava mio padre, che avevo sei anni, quindi per me era un mito. Il fatto che poi quando ho cominciato la professione sia stato lui a darmi i rudimenti essenziali, per me è un motivo di orgoglio e di onore come per poche persone, quindi ho sempre adorato, poi ho avuto la fortuna di seguirlo, ho avuto la fortuna di seguirlo fino alla sua scomparsa. Quindi questo quadro mi ricorda proprio questo rapporto. È difficile ritrovare in commercio dopo anni le opere che erano poste in casa di Chirico, cioè le opere che lui amava, dalla più piccola alla più grande, quando tu ti metti in casa un quadro, non so se per te Carmelo è la stessa cosa, io mi metto in casa dei quadri che rappresentano qualcosa al di là di quello che è il valore economico, al di là di quello che può essere la rarità dell'artista o l'importanza dell'opera. non è che tu ti metti in casa un quadro, almeno io, perché è importante, ti metti in casa un quadro perché lo senti, ti ricorda qualcosa, ti stimola un pensiero, ti stimola un sentimento, una memoria, un'attualità. Ci deve essere una ragione per la quale tu ti leghi a un quadro. Legarsi a un quadro è una specie di innamoramento, almeno per me è così. Il problema, almeno per me, è che di innamoramenti ne ho tanti, ma per fortuna si limitano all'ambito del quadro, della pittura, ma di innamoramenti ne ho tanti, dall'antico al moderno. E questo ve lo dico francamente, è una di quelle opere di Giorgio di Chirico che porterei a casa volentieri, al di là della dimensione, proprio per le memorie che porta con sé e per il significato dell'opera, questo significato universale, eterno, questo significato che esula dal momento, dalla data azione dell'opera, questo significato che accompagna l'essenza dell'essere umano. Lo trovo uno dei quadri più appassinanti e uno dei quadri a me mi emoziona, capite? L'ho visto nascere, l'ho visto nel momento in cui De Chirico l'ha bozzato, l'ho visto disegnare, capite? E quindi naturalmente è un quadro che mi suscita delle emozioni particolari, delle emozioni straordinarie, lo adoro, letteralmente lo adoro. Poi, vogliamo parlare di Giorgio di Chirico? Dai! Io non ho mai, ma del resto questo è il dilemma dei più grandi critici che ho conosciuto. Quando chiedevi a Lunghi qual è l'artista italiano più rappresentativo nella storia della prima metà del ventesimo secolo? C'è la grande indecisione, no? C'è la grande indecisione, De Chirico, Morandi, Morandi, De Chirico. A livello internazionale il primato è indubbiamente di De Chirico, perché l'unica alternativa a Picasso è stata De Chirico. Cioè, Picasso e De Chirico sono i due artisti, le colonne, le colonne portanti della rivoluzione del ventesimo secolo. E qualcuno mi dice sempre, no? Dice, ma perché? Perché? E beh, amici, se riflettiamo un attimo, Picasso con il cubismo, con l'invenzione del cubismo è la traslazione in pittura del pensiero di Einstein. Quindi Picasso racconta in pittura quello che Einstein ha raccontato, ha intuito nello sviluppo della fisica. Capite? De Chirico, con la sua metafisica, è l'interprete del pensiero freudiano. Quindi Einstein e Freud vengono traslati in pittura da Picasso e Giorgio De Chirico. Ecco proprio nel 1910, quindi proprio all'inizio del secolo, nasce l'astrazione con Bassili Kandinsky. Ma è figlia delle due intuizioni l'astrazione. Capite? Quindi importantissima, tanto è vero che l'astrazione poi con tutte le sue coniugazioni, no? Dopo è stata coniugata, l'astrazione geometrica, eccetera, coniugata in mille varianti, però è figlia di queste due clamorose intuizioni. Quindi Morandi, straordinario, quando i pochissimi quadri metafisici di Morandi sono emozionanti. Perché? Perché Morandi applica alla metafisica de Chirichiana il senso del colore. Quindi quell'emozione cromatica che in De Chirico è più legata alla realtà. In Morandi diventa fantasma, diventa racconto animistico, diventa, capito? Quindi c'è quella intuizione tonale in Morandi che è clamorosa. È una bottiglia di Morandi si trasforma in un oggetto che non solo è un oggetto universale, ma è un oggetto che contiene la vita universale. Quindi, dai, i grandi artisti sono i grandi artisti, non c'è niente da fare. Poi ci sono, naturalmente, è fondamentale comprare le opere di qualità di un grande artista. Qualcuno mi dirà, sai, ma questo quadro è piccolo. Sì, perché l'Antonello da Messina più famoso del mondo, quanto è grande? Il Van Eyck dei coniugi Arnolfini, quanto è grande? La canestra di Caravaggio, quanto è grande? Quando tu vai all'Ambrosiana, il gran finale, ti aspetti il gran finale, le coup de théâtre. Quando tu visiti un museo, ti aspetti il gran finale, il colpo di teatro, il botto, poi ti trovi di fronte a un quadritto così che dici, ma come? Però in quel quadro c'è la vita, c'è tutto, c'è tutto, sono le grandi emozioni e in questo quadro c'è tutta la storia e la psicologia di Chirichiana. In quest'opera non solo c'è la manualità pittorica di Giorgio De Chirico, ma c'è tutto lo spirito, c'è tutto l'uomo De Chirico, c'è tutta l'anima di Giorgio De Chirico. Eccola qua, la mitica canestra di Caravaggio. Ma sapeste le discussioni che ho fatto su questo quadro con Maurizio Fagiolo dell'Arco, con Giuliano Briganti, con Bigetti? Qualcuno sostiene che è un frammento. Io dico di no, io dico di no, è concepito così, proprio come allegoria della bellezza e al tempo stesso della fugacità della vita. Cioè la bellezza accompagna la vita in una stagione, poi appassisce, poi diventa quella foglia viva sulla sinistra e quella foglia secca sulla destra. Vedi la mela bellissima, fiorente, che ha un piccolissimo baco e che naturalmente quel baco la farà decadere. Siamo di pronte ad un'allegoria del tempo e della vita letteralmente straordinaria. Come letteralmente straordinario è il dipinto che vedete alla mia sinistra di Giorgio De Chirico. Oggi vi faccio vedere dei quadri, quelli che io chiamo i quadri storici, quelli che io chiamo i quadri fondamentali per una collezione, perché è espressione alta del pensiero dell'artista. Comprare De Chirico oggi, vedete, quando compri De Chirico, quando compri Morandi, quando compri Picasso, quando compri De Pisis, quando compri Fontana, quando compri, che ti posso dire, io ti parlo dei pittori che amo in modo particolare, quando compri il Guidi Sublime, quando mi compri il Guidi d'Atelier, non me ne importa niente. Se voi conosceste il mondo degli archivi, il mondo dei cosiddetti sapienti, il mondo che si dà un sacco di aglie e che spesso e volentieri è assolutamente vuoto e incolto, è solo ricco di denaro, ma povero di idee e di sentimenti di rispetto della verità, altro che povero, è addirittura avago, è addirittura alla Molière. Vi ricordate l'avago di Molière nell'interpretazione di Alberto Sordi? È fantastico! L'amore per il denaro, no? Mi fa pensare a Isa De Chirico, ma mi fa pensare a tanti personaggi che oggi sono incensati nel mondo dell'arte perché detengono l'archivio tale, l'archivio tal'altro e che lo usano, ma lasciamo perdere, ma lasciamo perdere, perché se no il discorso diventa molto… come ci sono le mele bacate, ci sono le mele perfette, come ci sono gli archivi che odio perché… non me voglio arrabbiare, ci sono gli archivi che non amo perché non rispettosi della verità, ci sono gli archivi che adoro perché tenuti in maniera scientifica, quindi mai pare di ogni erba un fascio. Quando si dà un potere assoluto c'è chi lo usa meglio di altri e c'è chi lo usa peggio di altri. Io sono dell'opinione che non bisogna mai dare un potere assoluto a nessuno, nemmeno a me, nemmeno a me stesso. Savinio può competere con qualsiasi artista al mondo perché il surrealismo di Savinio è letteralmente straordinario, però devo dire io che li ho conosciuti tutti e due, Morandi meno, Morandi ti dovevi inchinare, Morandi l'ho conosciuto bene attraverso Roberto Longhi, attraverso i racconti di Longhi, Savinio meglio attraverso Di Chirico, anche se molti dicono che non si amavano, non è vero assolutamente, i due fratelli si amavano, non erano d'accordo su delle situazioni storiche, concettuali, avevano convinzioni culturali divergenti, è come il fratello di destra uno può essere, io e mia sorella per esempio ci adoriamo, ma quando parliamo di politica discutiamo perché abbiamo opinioni differenti e Di Chirico e Giorgio e Alberto Savinio si adoravano, però avevano sulla storia, sulla pittura, sulle amicizie, sugli amori, erano diversi, ma questo credo che sia abbastanza, non voglio dire normale, ma abbastanza comune, mi sembra che sia una cosa abbastanza semplice, dal punto di vista pittorico paragonare il surrealismo di Savinio al tonalismo di Morandi è un po' azzardato perché sono due ricerche completamente diverse, certo qualcuno mi potrà dire che il periodo metafisico di Morandi può avere uno spunto, ma non è uno spunto alla Savinio, è uno spunto alla Di Chirico che come vi dicevo prima lui interpreta diversamente da Di Chirico proprio secondo la sua natura, secondo il suo istinto d'artista in chiave tonale. Quindi fare un paragone in ambito pittorico tra Savinio e Morandi sono due ricerche molto diverse, Savinio è molto legato a Breton, Savinio è molto legato concettualmente ad Apollinaire, quindi siamo in un mondo diverso, siamo in un mondo più europeo, più francesizzante, Morandi è un mondo prettamente morandiano, perché Morandi a chi lo paragoni? Non c'è il paragono, Morandi è Morandi, poi c'è qualcuno che viene dopo che tenta di imitare Morandi, ma sono tentativi farlocchi, non faccio nomi per carità di patria, perché oggi alcuni di questi che hanno tentato di imitare Morandi vengono idolatrati, ma per me sono imitatori, da non perdere assolutamente. Ti hanno mandato una foto? Ti hanno mandato una foto? Una foto ricordo mia? Mamma mia! Ma dove l'hai presa? E nei miei archivi di archivi. Vedi? I miei amori, lo posso dire, i miei amori Caravaggio e mia moglie. I miei amori, bella, bella questa foto, me la devi dare perché io non ce l'ho, no, no, me la devi dare, me la devi dare, adesso me la devi mandare sul telefonino, straordinaria, vedi? E intelligentemente Gabriele era facile mettere accanto a De Chirico, De Pisis. Erano amici? Il periodo di Parigi e il periodo di Ferrara, addirittura il periodo di Ferrara precedente a quello parigino, li ha visti uniti. Quando De Chirico inventa la metafisica, De Pisis era presente. De Pisis è proprio il momento di Ferrara, no? Proprio il momento di Ferrara e voi sapete che il barone Filippo Tibertelli è nato a Ferrara e viveva a Ferrara, quindi mettere accanto De Chirico a De Pisis era normale, no? Gabriele ha voluto fare una cosa completamente diversa e a mio modo di vedere ha perfettamente ragione. Cosa ha messo accanto a De Chirico? Ha messo da una parte il suo grande amico Gregorio Schiltian con una guache, però in fondo è una seppia, è una seppia straordinaria legata alle ricerche che Schiltian faceva per le scenografie. Deliziosa, raffinatissima, un'opera di Schiltian. Io ho avuto la fortuna di essere seduto al caffè greco tra Schiltian, De Chirico e Ungeritti. Non avete idea di quello che si raccontavano, non avete idea di quello che ho sentito dalla dalla loro voce, dai loro ricordi. Poi così come alla destra di De Chirico Gabriele ha voluto mettere questo gioiellino di Schiltian, alla sinistra uno dei quali, che vi dico la verità, ma io quando vengo ad Arte Investimenti ogni tanto scopro qualcosa. Infatti ho detto ma Gabriele, ma dove l'hai preso quel quadro? Ma da dove viene quel quadro? Qualcuno mi dirà un paesaggio? Vediamo la firma, ma vediamo la struttura del dipinto. Questa è un'opera di Leonardo Dudreville del 1920, quindi non il Dudreville anziano, non il Dudreville degli anni Sessanta, non il Dudreville stanco, no, il Dudreville immediatamente dopo la prima guerra mondiale. Il Dudreville che aveva prima abbracciato il divisionismo, non gli erano mai piaciuti i francesi, nonostante il grande amore dell'epoca per… e poi lui era di origine francese perché il nome è stato italianizzato, ma era Dudreville, era un nome francese, ma Dudreville è stato tra i suggeritori del futurismo e non ha firmato il mitico manifesto parigino, non dico per caso, ma dai, ci doveva essere, in pratica ci doveva essere, più lui che carrà, più lui che carrà, l'opera che state vedendo, ma del resto vai alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e trovi i quadri più famosi di Dudreville, vai qui a Milano alla Galleria d'Arte Moderna trovi le opere più clamorose di Dudreville. Tra coloro che hanno costruito la grande pittura del ventesimo secolo, della prima metà del ventesimo secolo, tra i grandi divisionisti c'è di Dudreville. Poi voi sapete che in ogni periodo storico ci sono le classi dominanti e colei che dominava la pittura del novecento, cioè colei che era il deus in assoluto per l'epoca, era la Sarfatti, la mitica Sarfatti, donna intelligentissima, perché poi puoi discutere quello che è stato fatto, se è più vicino al tuo pensiero, però l'intelligenza e la capacità la devi riconoscere. Quindi la Sarfatti è una donna di grande personalità e di un'intelligenza straordinaria, però Dudreville non l'ha mai amata, l'ha sempre contestata e non è diventato celeberrimo come Sironi perché naturalmente le commissioni pubbliche che venivano date dalla Sarfatti, erano date a Sironi e non a Dudreville. Ma dai, questa è la stessa ragione per la quale è stato Michelangelo a fare la Cappella Sistina, cioè le grandi commissioni date ai grandi artisti danno l'occasione al grande artista di creare il capolavoro, ma nessuno di noi mai saprà cosa avrebbe fatto Raffaello se invece di ricevere la commissione fosse stato Michelangelo, la commissione fosse stata affidata a Raffaello, cosa avrebbe fatto? Ti resta sempre l'interrogativo, ti resta sempre, quindi le grandi commissioni poi influenzano quello che è il giudizio storico sull'artista. Qui vedete un Dudreville più bello e più moderno del più bel serà, più bello e più moderno del più bel serà. Qui vedete che tutta la teoria paesaggistica tradizionale viene completamente ribaltata, proprio c'è la ricerca della luce, non è più importante ciò che dipingi, ciò che vedi, ma sono fondamentali i rapporti luminosi che esistono in natura. E qui Dudreville ci dà un esempio clamoroso, ci dà un'immagine letteralmente straordinaria di quella che è la sua capacità pittorica. amici, li vedi gli oggetti da museo? Tu puoi andare da tutti i mercanti d'arte d'Italia e del mondo, tu puoi assistere a tutte le emittenti televisive che propongono opere d'arte, ma dei gioielli di questo livello, ai prezzi che Arte Investimenti riesce a proporvi, non ve li dà nessuno, non ve li dà nessuno. E voi sapete che il mercato dei prossimi dieci anni sarà, sia quello italiano che quello internazionale, sarà orientato verso il recupero dei grandi del ventesimo secolo, il recupero del Novecento. Ormai, ma poi vedete le mostre che si stanno preparando, ragionate con la testa, ragionate con la testa. Io ho cercato di spiegarvelo un milione di volte, i prezzi che impone il mercato, i prezzi che impone il sistema sono in funzione degli investimenti fatti sulla visibilità internazionale di determinati artisti. E oggi i grandi mercanti, non solo italiani, europei e americani, tendono a un recupero formidabile delle grandi firme del ventesimo secolo, visto che gran parte del lavoro economico è stato fatto sulla seconda metà del ventesimo secolo, quindi c'è poco da speculare sui protagonisti della seconda metà del ventesimo secolo. Adesso il sistema che vuole guadagnare ha ricomprato, mentre vi vendeva i Fontana, mentre vi vendeva i Boitti, mentre vi vendeva i Ketaring, mentre vi vendeva gli Andy Warhol, i prezzi del Novecento si sono abbassati in maniera radicale. e con i soldi che il sistema, che gli operatori finanziari hanno guadagnato sul seconda parte del Novecento, sugli artisti che vi ho appena nominato, e ne posso aggiungere tanti altri, questo è ovvio, cosa stanno facendo? Cosa hanno fatto? Hanno ricomprato i capolavori, le opere più clamorose del Novecento, che adesso vi imporranno ai nuovi prezzi, ritorneranno di moda e la grande operazione finanziaria dei prossimi dieci anni è legata al recupero dei grandi sottovalutati del primo Novecento. Poi i più importanti si sono portati nei musei internazionali. Io vi sto dando due gemme incancellabili nella storia dell'arte a un prezzo ancora umano, a un prezzo piccolo rispetto al taglio di Fontana, a un prezzo piccolo rispetto alla carta geografica di Boetti, a un prezzo inesistente rispetto al Keitaring o al Tombly o al Rauschenberg, ma a un prezzo inesistente anche rispetto a Tapies. Ma vi rendete conto di come si fanno i soldi e come si investono i denari. Se hai un po' di denari oggi, quest'opera di Doudreville e quest'opera di Giorgio De Chirico le devi comprare immediatamente, tutte e due, perché è evidente quale già è, perché io parlo al futuro, ma invece già è in atto, già è cominciata la speculazione finanziaria su questo periodo storico. Quindi uno che ha un po' di soldi e un po' di capoccia, a me mi sono sempre mancati il po' di soldi, perché per tanti motivi, ma se hai un po' di soldi e un po' di testa, ma non ci pensi un minuto, che ti compri? Il Rosai? Ma devi comprare non i pittori minori, devi comprare i protagonisti assoluti. Che ti compri? Il cantatore? Il fiume? Dai, quelli sono fragili storicamente, devi comprare i Colossi, quelli incancellabili nella storia dell'arte. Dimmi chi va a cancellare De Chirico nella storia dell'arte. Chi? Dove? Quando? Perché? Dimmi le rarissime opere di Doudreville che sono in tutti i più grandi musei del mondo, possono essere cancellate. E tu trovi due gemme ancora a un piccolo prezzo. E tu trovi due opere clamorose, due opere importanti che ho cercato… Poi c'è il De Chirico che lo adoro, addirittura. Quando un quadro non è mai stato oggetto di commercio e conservato dall'artista fino alla sua scomparsa, vuol dire che quel quadro per quell'artista ha un valore particolare, ha un valore assoluto, ha un valore superiore. Ma dai, quando si tratta di investire, e qui i prezzi sono ancora umani, non c'è bisogno di andare a parlare dei milioni come adesso devi fare per un tagliettino di fontana, ma ci pensi, tu paghi 40 mila Euro, un quadretto di boetti, quattro lettere, fondo bianco, lo paghi più di quest'opera di Giorgio De Chirico. E' da imbecilli, ma il sistema di mercato, la speculazione, gioca su questo. Voi non ve lo volete mettere in testa, io faccio l'affare, tu arricchisci il sistema, quale affare? Quando te lo facevo comprare io a 300 mila lire, quando te l'ho fatto comprare a 2 mila Euro, quando te l'ho fatto comprare a 5 mila Euro, quando te l'ho fatto comprare a 10 mila Euro, facevi un intelligente investimento. Oggi arricchisci chi ha costruito intelligentemente quell'operazione, questa è la verità, e chi vi dice il contrario è un bugiardo. Ma il commerciante deve fare i suoi affari, non fa mica gli affari tuoi. Io posso consigliarti perché non sono un commerciante, tutto sono meno un commerciante e non l'ho mai saputo fare, il commerciante. No, ma non l'ho mai saputo fare, il commerciante. Ci vuole troppa passione, hai ragione di te? Troppa passione. Il commerciante è cinico, il commerciante è programmatore, il commerciante non ti dice la verità manco se gli spari. Ma giustamente perché fa il suo mestiere e se lo deve fare bene, lo deve fare così. Deve essere cinico, ma è fondamentale. Il grande venditore è un cinico, è uno che pensa solamente al proprio tornaconto. Io non vi ho mai venduto un quadro mio, quindi figuratevi, figuratevi. Non perdete le opere clamorosamente vincenti. Avete due opere a disposizione. Guardate, fatemi mille domande. Fatemi mille domande, ma ve lo chiedo veramente da fratello. Queste opere non perdetele. Questo costa 1900 Euro. Invece di comprarvi un pernacchione qualsiasi, comprate un pezzo di storia con 1900 Euro. Questi due costano di più, indubbiamente. Ma sono le opere che nei prossimi dieci anni diventano irraggiungibili per chi non è ipermilionario, per chi non può investire milioni in arte. E' evidente che queste opere diventano irraggiungibili. Allora, vi voglio far vedere un'altra gemma, che è un altro regalo. Questo era il pittore più amato da mio nonno. Lui nasce a Firenze, guardalo qui. Io nella bottega di mio nonno vedevo le opere di Spadini. Armando Spadini a Roma, negli anni 30, era un mito, era una leggenda, era un punto d'arrivo, era uno degli artisti fondamentali. Lui, vedi, nasce da un ambiente culturale esattamente opposto a quello di Doudreville. Spadini nasce nell'ambito fiorentino, nell'ambito post-fattoriano, quindi in una cultura completamente diversa. Poi si avvicina al mondo romano con quelle che sono le caratteristiche del mondo romano. Ma il mondo romano del Novecento, naturalmente. Guardate che gioiello. Questo, molto probabilmente, è il ritratto del figlio che gioca con il pennello e la tavolozza, che gioca con gli strumenti di lavoro del padre. Quando, lo vedi che è bello come Renoir, voi vi comprate il quadrettino di Renoir che vende il grande gallerista, che poi è una cacatella, a 600 mila Euro, 800 mila Euro, un milione, il quadrettino così di Renoir è completamente insignificante. Lo sapete come la penso io? Se tu mi compri il capolavoro di Renoir e lo paghi un mare di milioni, chapeau, va bene, ma hai comprato un capolavoro. Io non sono mai d'accordo quando compri lo studio, io la chiamo la cacatella, ma per renderlo più nobile parvi dello studio, del bozzetto, dell'opera minore, di un grande nome, e lo strapaghi. E strapaghi un quadro insignificante, di un grande nome, ma assolutamente insignificante. Bisogna comprare le opere di qualità, sono quelle che ti fanno guadagnare denaro e che restano incancellabili nella storia dell'arte. Quando ti accontenti della cacatella solo perché è di grande nome, e la paghi tanto perché naturalmente è il grande nome, anche la cacatella di Picasso, che è un'opera insignificante di Picasso, non la devi comprare, non la devi comprare, non si compra. Ma come è così? Come? No, ma è così. Certo, un mercante ti dice no, te la devi comprare perché è Picasso. E' ovvio, guarda che gioiello di Spadini, è un'opera emozionante, è un'opera sentita, un'opera vera, un'opera preziosa, un'opera superiore. Guarda che cos'è, costa zero, costa letteralmente zero, questo è un iperregalo, questo è letteralmente un gioiello regalato, questo è letteralmente una gemma regalata. Guarda cosa vi sto facendo vedere, guarda cosa sto mettendo a vostra disposizione e vi sto facendo vedere tutte opere calamorosamente vincenti sul mercato dei prossimi dieci anni e che oggi hai la fortuna di poter pagare ancora cifre piccolissime e che oggi hai la fortuna di poter acquisire, mettere in collezione ancora a cifre piccolissime. Armando Spadini da sogno regalato, gioiello di Schiltian ucciso, De Chirico, ma che De Chirico! Mi fa tenerezza quello che poi compra il cavallino di De Chirico e lo paga più di questo. Il cavallino di De Chirico non lo comprerà mai nessun museo o te lo dice chi ama De Chirico alla follia. Questa è l'opera di De Chirico che compra anche un grande museo, perché è un'opera di De Chirico che racconta il pensiero, l'animo, ciò che De Chirico aveva dentro. Ragionate con la testa se volete investire. Questa è un'opera da catturare al volo. Poi vi comprate il cavallino col mantello rosso e il castelluccio e commettete, comprare De Chirico è sempre un fatto positivo, però perché comprare ciò che il museo non comprerà mai quando a un prezzo ridicolo puoi comprare l'opera da museo? Perché? Me lo dovete spiegare, visto che siete così bravi. Precipitatevi, precipitatevi, opere di questo livello, opere di questa importanza a prezzi come quelli che vi sta dicendo Clea non le trovate da nessuna parte sul mercato. questo ne sono matematicamente sicuro perché l'importante è la qualità, la storia, la rappresentatività. È un'opera di Douderville del genere del 1920 e la devi rubare a un grande museo. Questa è un'opera che non la trovi sul mercato a nessun prezzo e se la trovi da uno specialista ti chiede 120 mila, 130 mila. E ha ragione lui. Scusi quant'è? Qui costa niente. Qui costa niente. E ha ragione lui. E ha ragione lui. E ha mille volte ragione lui. Non perdere nessuna di queste opere. Poi non ho capito come non abbiate già prenotato il gioiellino di Schiltian che lo pagate quanto vale una litografia di Schiltian. Lo pagate veramente il prezzo di un'opera grafica. Non perdetene uno. Questo a 1900 è da catturare all'istante. E questo a 7005. Un'opera di Spadini che è una meraviglia. Un'opera di Armando Spadini che è una follia. Di una bellezza, di una qualità, di un'importanza storica assoluta, totale. E questo a? guarda la bellezza di questo guarda la bellezza di quella gemma di Spadini qui siamo 1910 qui siamo 1910 guarda la bellezza di quell'opera questa è una cornice l'ho adattata con questa cornice qua non c'era, le cornice sono andato di là e gli ho montato questa al meglio si può presentare ti vado apprendendo giù che fate? quattro opere di questo livello esitate? ve ne faccio vedere altre che quattro però non urlo lo vedi De Pisis dipinto da De Pisis? lo vedi De Pisis vero? lo vedi Campigli gioiello 1940 una tecnica mista da urlo di Massimo Campigli lo vedi il sughi che piace a me quello beconiano quello storico non quello dai vabbè guarda che razza di quadro di sughi e poi un artista che ho avuto l'opportuna di conoscere quando ero giovanissimo questo Boulevard Haussmann questo è Parigi una veduta di Parigi preziosa di un pittore mitico io me lo ricordo come un gigante ma sai perché? perché ero piccolo io no, era un uomo di una corporatura importante un Marcantonio sì, un Marcantonio però io mi sembrava ancora più importante perché ero piccolo io questo è una gemma vera perché il 99% dei quadri attribuiti ad Orfeo Tamburi sono rigorosamente falsi ma questo è dipinto da Orfeo Tamburi io ho un vedete io ho una dannazione sono un sopravvissuto quindi questi pittori li ho visti dipingere e i loro quadri li riconosco quelli che oggi tengono tanti archivi non hanno mai visto dipingere il pittore di cui tengono l'archivio questo è Orfeo Tamburi dipinto da Orfeo Tamburi ma dato che poi questo è un artista che negli anni 70 negli anni 80 fino all'inizio fino all'esplosione della speculazione di mercato sugli artisti del dopoguerra sugli artisti degli anni 60 era uno degli artisti più ambiti più amati dalla borghesia italiana quindi si vendeva si vendeva e trovare un Tamburi autografo è come trovare un festa autografo cioè sono quegli artisti che poi vabbè non posso dire tutto perché se dicessi tutto quello che ho visto con i miei occhi e tutto quello che so dovrei andare in tribunale una mattina sì e una no dovrei andare in tribunale una mattina sì e una mattina no perché naturalmente quello che dico questa è la verità questo è Orfeo Tamburi vero dipinto da lui dipinto da lui dipinto da lui quello che non vi mettete in testa a voi basta che ci sia un pezzo di carta dell'archivio va bene tutto il mercato vi ha insegnato così quindi non siete colpevoli voi è colpevole il sistema il quale poi andate a vedere gli speciali l'hai visto lo speciale su Vanna Marchi? è un tema che non posso toccare non lo puoi toccare? ah bravo bravo no non lo sapevo sei coinvolto sei coinvolto comunque il problema che poi quella crede pure di essere nel giusto che poi quella crede pure di essere nel giusto ma il sistema è convinto di essere nel giusto ma ragiona come Vanna Marchi voi non ci credete anche perché credo di essere l'unica voce in televisione che cerca di farvi capire come i meccanismi che cerca di farvi capire come funziona tutti gli altri ti dicono c'è l'archivio perfetto meraviglioso c'è l'archivio io ti dico c'è l'archivio ma non basta ma non basta c'è l'archivio perché ci deve essere per legge e la legge va rispettata però chi vi dice che l'archivio non basta solo io chi vi dice che l'archivio non basta solo io anzi io vi dico di più perché vi dico che il fatto che un'opera non sia archiviata non è ragione sufficiente per comprarla questo non vi entra in testa bisogna comprare le opere autografe e quando dico autografo sono generoso non voglio dire di più ma chi ha un po' di sale in zucca ha già capito se hai un po' di sale in zucca se invece sei una vittima passiva quelli che io chiamo i non pensanti aderenti al sistema e allora poverello sei irrecuperabile e allora sei irrecuperabile guarda che gioiello autografo di Orfeo Tamburi un'opera di sughi di una bellezza il sughi vero il sughi storico è bello è l'unico artista italiano che può sfidare il bacon poi il sughi commerciale delle temperine con la donnina al bar che ne sono state fatte a migliaia quello è inguardabile è inqualificabile è il quadro ignobile ma il sughi vero il sughi della storia di un prete il sughi della scena della borghesia quello è sublime quello è uno dei più grandi pittori di figurazione della storia del dopoguerra bisogna saper distinguere opera da opera bisogna saper distinguere quelle che sono le opere vincenti e quelle che sono le opere banali allora amici vi sto annoiando evidentemente sì perché non sento domande non sento quella vibrazione che dovrebbe nascere tra tra noi che dovrebbe nascere tra di noi le opere che ho la fortuna di farvi vedere oggi sono qualitativamente superiori e soprattutto sono proiettate sul mercato speculativo del prossimo decennio poi se mi chiedeste qual è l'opera più speculativa tra quelle che vi sto facendo vedere non avrei esitazione nel rispondervi voi lo sapete che io adoro rispondere alle vostre domande voi lo sapete che per me è una gioia poter interloquire con voi rispondere alle vostre domande parlare proprio in diretta con voi mi raccomando come diciamo non ho capito è un tuo fan troppo buono ma cosa compra Francesco 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 sei incorreggibile Francesco vogliamo parlare un pochino di prezzi vogliamo parlare un pochino di cifre vogliamo parlare un pochino di investimenti io provo a dialogare con voi allora visto che voi non mi fate le domande ve le faccio io quale tra le opere che vi ho fatto vedere quella che vi ha colpito di più quella che desiderereste possedere quella come vi dicevo proprio in apertura di trasmissione quella che amate quella che vi ha colpito quella che desiderate vederla da vicino toccarla con mano viverla nei contenuti qual è ditemi voi ditemi voi tra le opere che ho avuto la gioia e la fortuna di potervi mostrare qual è quella che amate di più quella quando vedo quell'immagine mi viene in mente proprio mala tempo che ha curronto quando vedo quell'immagine proprio mala tempo che ha curronto e quando penso che ma va va no no parliamo di quadri parliamo di quadri che è molto meglio vai parliamo di quadri secondo voi io l'ho preso per examen tu eh beh certo ma assolutamente sì guarda che cos'è quadro pazzesco di sughi poi mi comprate la cosa più bella sai qual è che mi comprate a 4.000 euro a 5.000 euro le temperine delle donnine al caffè che valgono così zero zero e poi a 5.000 e qualcosa non prendete un'opera di quel livello amici dai ma per favore ma per favore poi lo so che mi odiate perché tu 10 collezionisti che hanno un'opera di sughi 9 hanno le donnine al caffè e quindi mi odiate è andato di moda è molto piacevole sughi dipinte bene piacevoli sughi è un pittore di qualità e di livello straordinario sughi è un artista vero era un artista vero volete volete conoscere la storia umana di Massimo Campigli guarda questi queste figure femminili che rievocano gli idoli cretesi gli idoli proprio di scavo della civiltà cretese e diventano donne per quello che ha significato la donna nella psicologia di Massimo Campigli e nella vita di Massimo Campigli e poi c'è quel De Pisis poi c'è quel De Pisis che è veramente di grande qualità letteralmente è una delle opere di livello assoluto di Filippo De Pisis è una delle opere di qualità e di livello assoluto di Filippo De Pisis grazie mi hai mandato una bella foto no non ce l'avevo molto probabilmente ce l'avrà mia moglie però sicuro ma quando siamo andati nel 30 mi fa non ce l'avevo non ce l'avevo non ce l'avevo a non ce l'avevo a No, io non dico una parola fino a quando non mi chiedete un'opera specifica, fino a quando non mi dite qual è il quadro che amate di più, qual è il quadro che desiderate? Per capire Campigli bisogna rifare la storia giovanile di Campigli, bisogna capire la sua origine, lui nasce a Berlino, non si chiamava Campigli, aveva un nome tedesco, io non lo so pronunciare, è una cosa, Ian Feld, è una cosa del genere e lui per anni ha creduto che la nonna che lo cresceva a Fiesole fosse la mamma, capite? Ho scoperto da una lettera, mi sembra che mi ha lasciato tutta la lettera, sì sì, c'era tutta una storia. Opera di Campigli straordinaria, opera di Campigli particolarissima, 1940 e quindi meravigliosa anche la datazione. Ma vi posso fare una domanda, quel gioiello di De Chirico, quell'Apollo, chiamatelo come volete, chiamatelo Febo, chiamatelo Helios. Perché lo chiamavano Febo, Helios? Perché era lo splendente, perché era il luminoso. Ambivalente, perché così come poteva proteggere dal male, poteva essere l'apportatore del male. Il culto di Apollo è legato al mitico santuario di Delfi, proprio alle pendici del Parnaso. Giorgio De Chirico clamoroso, Giorgio De Chirico straordinario, Giorgio De Chirico meraviglioso. E vi sto dando delle opportunità economiche che ho cercato di spiegarvi ripetutamente. Il mercato dei prossimi dieci anni sarà l'apologia delle opere che vi sto proponendo oggi. Sarà veramente il successo economico, voi mi direte, quello che costerà De Chirico fra due anni, tre anni. Voi mi direte quello che sarà il prezzo di un'opera di Doudreville di questo livello fra due o tre anni. Ma voi mi direte quello che sarà il prezzo di spadini, di sughi, di tamburi nei prossimi anni. Vi sto dando delle opportunità importanti e mi piacerebbe sentire da voi che dicevi Clea? Lo so che il De Chirico è il più richiesto, è anche il quadro indubbiamente più speculativo nei prossimi anni. E poi il prezzo è veramente piccolo, il prezzo è veramente imbogliante come non mai. Ma ci pensate? Potete comprare un quadro che non è mai stato in commercio e che è sempre stato in casa De Chirico fino alla scomparsa dell'artista. Uno dei quadri che facevano parte della collezione personale dell'artista. E tutto questo ve l'ho detto proprio in apertura di trasmissione in funzione del fatto che De Chirico ha voluto sempre portare con sé il mito greco, il mito apollineo, il mito della Grecia classica. Gran quadro. Poi vedi proprio la galligrafia, la pittura di Giorgio De Chirico. Vedi proprio il tratto pittorico clamoroso di Giorgio De Chirico. Veramente un'opera preziosa. Letteralmente un'opera di grande qualità. Allora amici, la cornice è la scelta di Chirico, è una cornice antica del Settecento ed è la stessa cornice che accompagnava il quadro in casa di Chirico. gioiello, veramente un gioiello. Poi, ve lo dico francamente, è quell'opera di Doudreville del 1920, è un'opera da grande museo, è un'opera di livello e qualità straordinaria. A me piace da morire quel gioiellino di Armando Spadini, trovo molto interessante, trovo particolarmente significativo quel gioiello di Spadini. Amici, parlate, parlate. I prezzi sono sorprendenti rispetto al valore delle opere attuali, rispetto a quelli che sono i prezzi correnti per opere del genere. quell'opera di Spadini, siamo 1908, 1910 al massimo. è veramente affascinante, è veramente di grande livello, di grande qualità, è quell'opera di Armando Spadini. Grazie. 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 Allora amici, vi faccio vedere ancora qualche opera. Abbiamo visto il Tamburi, quanto mi offrite del Tamburi? Abbiamo visto il Sugi, che mi date del Sugi? Abbiamo visto quel gioiello di Campigli del 40, abbiamo visto quel De Pisis, veramente una natura morta di Filippo De Pisis, di una qualità, di una bellezza superiore. Poi, quel quadro di Armando Spadini a me piace in maniera assoluta, lo trovo splendido, lo trovo di un fascino letteralmente straordinario. Poi c'è quella seppia di Schiltian che la state perdendo e la comprerà a un prezzo assurdo, un museo, il gioiello di De Chirico, l'Apollo di De Chirico, il grande e fantastico dipinto divisionista di Leonardo Doudreville del 1920, quindi il periodo migliore di quest'artista. e poi vi faccio vedere un Crippaveco, cosa che è molto rara, guarda che cos'è Crippa del 1950. In che senso? Allora, mi dicono Amici, io ve lo giuro, non vi toglierei un euro dall'opera di De Chirico, anzi chiederei di più, anzi chiederei di più, ma mi dicono che la proprietà deve vendere, mi dicono che la proprietà è costritta a monetizzare, quindi se avete un'idea formulatela, chissà, 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 se avete un'idea formulatela, ma lo comprate al prezzo di un cavallino, ma questo vale il doppio di quello che vi ha chiesto Clea, ma questo vale il doppio di quello che vi ha chiesto Clea. Clea. Precipitatevi perché le grandi opportunità o le prendi al volo o le perdi per sempre. e poi vi devo dire che questa opera di Doudreville del 1920 è letteralmente fantastica. Qualcuno mi rimprovererà perché amo toccare il quadro e hanno ragione gli amici che mi rimproverano, ma è troppo l'amore che ho per i quadri. Lo faccio, prima mi asciugo la mano, prima mi asciugo la mano. Precipitatevi. Precipitatevi. Se quel dichirico andasse in assa da Sotheby's fa 60.000 più i diritti o i diritti o i diritti. E i diritti sono del 25%, quindi 60.000 diventano 70.000 più i diritti e i diritti sono del 25%, 76-77, nessuno? Non vi rendete conto di questo? Questo è da prendere al volo, questa è un'opportunità fantastica, poi c'è chi è costretto a vendere che magari svende, ma quando uno svende sappiate approfittarne, sappiate approfittarne, anche perché un'opera di questo tema, di questo soggetto, con le caratteristiche che vi ho descritto, non la troverete mai più, troverete il cavallino, ma vale un quarto, un quinto, e poi lo sapete come la penso, bisogna sempre comprare le opere museali. Bisogna sempre comprare le opere di grandissima qualità. Fate le vostre proposte, non si sa mai che vengano accettate, chi lo sa. Guardate, oggi avete l'opportunità di acquisire opere qualitativamente straordinarie, quindi sappiate approfittarle. Ve l'ho fatto vedere un'opera di Crippa, amici, questo è un genio, questa è un'opera di Crippa del 1950, quando Crippa costava quanto e più di Fontana, ed erano molto amici, ed erano molto vicini. Queste sono opere geniali, queste sono le opere che aprono la strada a quella che è la rivoluzione spazialista. Qui noterete quanto Crippa fosse vicino al giovane Dova, proprio nelle creazioni di questo periodo. Qualche anno dopo verranno le mitiche spirali di Crippa? E poi tutte le ricerche polimateriche di questo artista assolutamente geniale, assolutamente superiore. Un artista letteralmente straordinario. Purtroppo, vedete, già qui cominciate a vedere gli inserimenti polimaterici che venivano dalla frequentazione e dalla conoscenza delle ricerche di Burri. Un'opera di Crippa di strepitosa qualità. Poi, dopo la scomparsa tragica, il mitico incidente aereo. Sapete che Crippa aveva questa passione, proprio del volo. Sì, siamo molto vicini a Bresso e purtroppo l'incidente si verificò proprio nell'aeroporto di Bresso. Crippa, vabbè, voi vi fate incantare dagli pseudo Crippa, che li vogliamo chiamare datelier, chiamiamoli datelier. Io li chiamo i Crippini, che naturalmente pagate relativamente, per me li pagate tantissimo, perché per me valgono zero. Quindi anche quando lo pagate 8 mila, 9 mila, 10 mila Euro, sono 8 mila, 9 mila, 10 mila Euro buttati, buttati, letteralmente buttati, perché oggi c'è il mercato di queste cose. Ma tra dieci anni, tra vent'anni, Crippa costerà soldi veri, ma vorranno solo le opere matematicamente sue, rigorosamente autografe. E questo accade su Crippa, accade su Rotella, accade su Tanofesta, accade su Dorazio. Quello che io dico sulla qualità, sulla rappresentatività museale e sull'importanza storica dell'opera è fondamentale. Il 90% dei quadri di Pesta che vedete in giro sono festini, come il 90% dei quadri di Turcato che vedete in giro sono Turcatini, come ci sono i Crippini, come ci sono gli Angelini, non gli Angeli, gli Angelini. Voi non ve lo volete mettere in testa? E per risparmiare 2, 3, 4 mila Euro, credete di fare un acquisto intelligente e buttate via i vostri risparmi. Perché domani accadrà quello che sta accadendo oggi su Rotella, quello che sta accadendo oggi su Boetti. Per cui l'archivio ti dirà che quell'opera non ha le caratteristiche per essere immesso nell'archivio. Morale, quanto varrà quell'opera? Zero. Questo non ve lo volete mettere in testa. Comprare la qualità è l'unica garanzia vera, reale, al di là dei pezzi di carta che avete. Questo non ve lo volete mettere in testa. Su un quadro storico così di Crippa del 1950 dovrebbe esserci l'aggressione, dovrebbero esserci 100 collezionisti che se lo disputano. C'è il silenzio assoluto. Io guardate, ve lo dico, ma per me fare una trasmissione è un dolore. È un dolore. Perché quando sento qualcuno che mi dice che quest'opera di De Chirico è cara, ma qual è cara? È costosa. Quindi è un discorso completamente diverso. Ci sono dei quadri costosi, ma caro è un'altra cosa. Questo è un quadro che se invece di trovarlo ad Arte Investimenti lo trovi ad Arte Amiart a Milano, scusi quant'è? 85 mila. Grazie. Questa è la verità. Questo è il quadro che trovi dal grande gallerista. Questo è il quadro che trovi in quelle gallerie dove si vendono i quadri che hanno le caratteristiche che io vi suggerisco di esigere. Volete che faccio dei nomi? Posso fare dei nomi di quelle 7-8 gallerie che vi vendono i quadri qualitativamente giusti, che non hanno solo il pezzo di carta, ma hanno il pezzo di carta più qualitativamente giusti. Poi ci sono i quadri che hanno il pezzo e il pezzo di carta è qualitativamente zero. E quelli, ve l'ho detto, qualsiasi cifra di pagate sono sempre cari, perché quelli non sono da comprare. Fino a quando non farete questa selezione, la vostra collezione sarà insignificante e i vostri denari invece di essere custoditi dalla collezione saranno buttati via, a meno che non facciate il piccolo commercio. Diceva che compro oggi a 10, vendo domani a 11, non pagate le tasse, non pagate l'IVA, non pagate il diritto di seguito, siete totalmente fuori legge e allora ognuno è responsabile di quello che fa, di quello che sceglie di fare. Ma quello io lo chiamo sottomercato e il sottomercato non produce mai niente di profumato. solo il guadagno a chi vende. Solo il guadagno a chi vende, ma il sottomercato non vi dà nulla di giusto, di sano. Guardate le opere vincenti. Vi ho fatto vedere un Crippa del 50 da far tremare le vene dei polsi. Letteralmente da far tremare le vene nei polsi. E poi, visto che ieri abbiamo parlato lungamente di pittura analitica, vi voglio far vedere una gemma della pittura analitica, anche se poi Elio Marcheggiani va al di là dell'analitico puro. Guardate la bellezza, il fascino di queste grammature di colore del 1900, non me lo ricordo, siamo negli anni 70 sicuramente. 75. Grazie Clea, 1975, opera veramente preziosa, opera decisamente di qualità di Elio Marcheggiani. Non è una delizia. Chi ama la pittura analitica, chi ama l'opera di Marcheggiani, che abbiamo ammirato in tante biennali veneziane, che abbiamo ammirato in tante mostre personali nei musei più importanti d'Italia e del mondo, una grammatura del 75, così di Marcheggiani, costa denaro, costa molto denaro, letteralmente tanto denaro. Veramente una splendida opera. Guardate, io vorrei vivacizzare una trasmissione importante. Prima di tutto fatemi tutte le domande che volete e poi cominciate a farmi delle proposte economiche, sui quadri che vi piacciono, ma delle proposte economiche serie, delle proposte economiche che abbiano una ragione, che abbiano una logica. E' chiaro che sul quadro da dieci mi fate la proposta 1, che ti devo dire? E' chiaro che ti devo dire... Un pezzo. Te ne do un pezzetto. E' chiaro che ti devo dire no. Però io conosco i committenti, quindi fate le vostre proposte intelligenti, fate le vostre proposte che abbiano un senso, una ragione e cerchiamo di dialogare. E letteralmente cerchiamo di dialogare. Allora, io vi ho fatto vedere dieci quadri, quindi a vantaggio degli amici che non ci hanno seguito fin dall'inizio, prego Raffaela, rivediamo le prime dieci opere che ho avuto la gioia di potervi proporre nel corso di questa trasmissione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi piacerebbe conoscere... Vedi, ci sono delle cose che veramente ti fanno male. un signore sul De Chirico mi ha fatto una proposta che mi dice, è come se mi avesse dato del cretino, è come se mi avesse dato del fesso. come fai? O sei un completamente incompetente, quindi non hai mai comprato un quadro in vita tua e fai delle proposte che non hanno né capo né coda, ma se frequenti le aste, se frequenti il mondo dell'arte e del mercato, i valori di De Chirico, i valori di De Chirico li conosci, e se qualcuno ti vende ciò che vale 100 a 10, sotto c'è qualcosa, poi non ti lamentare che qualcuno ti ha imbrugliato, che qualcuno ti ha venduto un falso, perché te lo sei cercato con un'offerta del genere. Cosa ti possono dare? Solamente un'opera fasulla. Tu non è che puoi comprare un biglietto vero di banca autentico da 500 euro a 50 euro, quando qualcuno ti dà un biglietto di banca autentico da 500 euro, te lo dà a 50 euro, è matematicamente falso, perché se no non te lo dà. E' ovvio, no? Quindi fare delle proposte di questo tipo, o sei proprio uno che non ha mai frequentato una galleria, che non ha mai sentito un prezzo, ma mi offendo lo stesso, perché quando fai delle proposte di questo tipo mi dai del ladro, se no lo dai a me che presento lo dai all'azienda, ma praticamente è un insulto, ma praticamente è come se tu mi dicessi sei cretino. Che vuol dire? Qualcuno dice, ah ma sai per me quel quadro di Chiricolo ha dipinto per se stesso. E quando un maestro dipinge per se stesso, dipinge sulla superficie più consona per ottenere l'effetto migliore sul desiderato. E quando un'opera del genere la fai su cartone invece che su tela, perché di Chiricolo voleva l'opera liscia, non gli piaceva il... Tant'è vero che le tele faceva l'imprimitura, cioè le rilavorava lui per avere poi un risultato che non fosse corposo, ma fosse, lui diceva, trasparente. E' che il colore doveva colare sulla superficie. E per ottenere questo effetto è mille volte più efficace il cartone che la tela. Ma le cose le dovete conoscere, le dovete sapere. Queste sono cose da museo. Sono cose da museo, sono opere da studioso. Il De Chiricolo e il De Chiricolo e il Doudreville sono opere da museo. Poi c'è il luogo comune, i mercanti che cosa ti dicono? I mercanti elogiano ciò che hanno, non elogiano. Vai a visitare i musei e allora ti accorgi di quelle che sono le scelte specifiche dell'artista. Ma quello che conta è il risultato finale. Comunque, vi sto dando delle opportunità culturali ed economiche letteralmente clamorose. E lo sapete, perché io faccio televisione ormai da 40 anni e sono l'unico che vi ha fatto guadagnare soldi. Ma tanti soldi. Io sono l'unico che vi ha imposto di comprare 2600 opere di Boetti quando costavano niente. Addirittura il Boettino, quattro lettere, che oggi pagate 40 mila Euro, te lo facevo pagare 300 mila lire. E la carta geografica di Boetti, che oggi paghi 2 milioni di Euro, te la facevo pagare 10, 12, 15 milioni delle vecchie lire. Chi ti ha venduto i tagli di Fontana a due soldi? Chi ti ha venduto i tombley a 5 milioni delle vecchie lire? Poi qualcuno mi dirà, sì è vero, mi ha venduto queste opere, poi però mi vendevi il Cassinari, mi vendevi il Morlotti, mi vendevi il Fiume, mi vendevi Cascella. Certo, ma vi ho mai detto che comprando il Morlotti, il Fiume, compravate delle opere di ottimi artisti, ma le pagavate il prezzo pieno. Non vi ho mai detto che avreste fatto un investimento clamoroso su quell'opera. Quando ti presentavo l'Isgro, quando ti presentavo il Boetti, quando ti presentavo il Bonalumi, ti dicevo su queste opere straguadagnerai. Ma non perché io sia un profeta e sappia leggere il futuro, perché sono nato in questo campo. E mi accorgo immediatamente di quali sono le operazioni finanziarie in atto per portare un certo pittore, un certo artista, un certo gruppo di artisti alla visibilità sul mercato internazionale. E quando un artista, un artista, un artista, diventa visibile sul mercato internazionale, allora nascono i grandi prezzi. Ma questo è elementare, è elementare. Quando ti accorgi che, vi faccio un esempio, Quante sono le gallerie, quanti sono i mercanti che riescono a portare un artista a costare cifre milionarie? Sono quelle sette, otto grandi gallerie nel mondo, quelle cinque, sei organizzazioni finanziarie nel mondo, che controllano i più grandi musei del mondo. E quando opera gallerie, tira fuori il Novecento Italiano, e quando opera gallerie, sceglie tra gli artisti italiani lo giudice, e quando opera gallerie, sceglie tra gli artisti italiani Algardi, è chiaro che li porta poi ai livelli internazionali. È una questione di scelta, di informazione. Comprare De Chirico oggi, comprare, te li dico i pittori, comprare le opere di guidi storiche, quelle vere, non quelle dell'associazione Piripicchi e Piripocchi, quelle vere, comprare il primo Novecento, Dudreville, Oppo, Bucci, il vecchio Trombadori, magari questi sono momenti, queste sono situazioni storiche che il mercato dei prossimi dieci anni valorizzerà ai massimi livelli. Ferruccio Ferrazzi sono gli artisti che verranno valorizzati a livelli clamorosi. Poi fate come vi pare. Io alla fin dei conti che ci guadagno in più a dirvi la verità per favorire voi piuttosto che darvi quello che il mercato vi impone oggi? Per me è molto più facile convincervi facendo l'esempio di quello che accade in tutte le gallerie che non cercando di farvi comprare le opere giuste sulle quali guadagnerete inevitabilmente voi. Io cerco di spiegarvi il sistema perché voi impariate ad approfittare del sistema, ad usare il sistema a vostro vantaggio. Se a voi piace continuare ad essere schiavi del sistema e continuare con il vostro denaro, con la vostra passione, con il vostro sacrificio ad arricchire il sistema fate pure. Però a quello che sul De Chirico mi offre un decimo di quello che vale gli dico stai zitto perché mi offendi. Chiaro? E mi piacerebbe tanto che mi telefonassi personalmente per chiedermi scusa perché tu sei offensivo. E dai, scusa, quando ce l'ho, ce l'ho. Quando ce l'ho, ce l'ho. Va bene che il cliente ha sempre ragione. Va bene che bisogna essere cortesi. Va bene che non bisogna mai trascendere. è vero. eh? Allora, è come quello, no, che ma non voglio parlare di certe cose. Che dicevi? Non puoi parlare dopo. È vero. Allora, amici, vi ho fatto vedere delle opere particolari, ma c'è quel gioiellino di Tambuchi, quella veduta di Parigi, non è piacevolissima, non è di grande gusto, non è di grande qualità. guardate la bellezza di quel gioiellino di Tambuchi. Poi mi piace il Sugi. Rivediamo tutto, rivediamo tutto, rivediamo tutto, perché ci tengo che gli amici si rendano conto della qualità e dell'importanza delle opere che ho la gioia di farvi vedere oggi. C'è quel Tambuchi che è una gemma, c'è quell'opera di Sugi, quella bambina di spalle che è una cosa di una raffinatezza e di una qualità eccezionale. c'è quella tecnica mista di Campigli che è un amore, oltretutto quell'opera di Campigli è addirittura del 1940 e poi guardate la bellezza di quella natura morta di De Pisis e poi guardate la bellezza straordinaria di quella superba natura morta di Filippo De Pisis. Poetico e raffinato è l'Armando Spadini dipinto nel primo decennio del XX secolo, quindi siamo prima del 1910, opera deliziosa, raffinatissima di Armando Spadini bella come il più bel Renoir veramente di una bellezza di una raffinatezza straordinaria e poi quella gemma ironica quel bozzetto per una scenografia quella seppia preziosa di Gregorio Schiltian Veramente un'opera deliziosa veramente un'opera particolare letteralmente un'opera vincente poi quell'Apollo di Giorgio De Chirico pubblicato con gli scritti di Maurizio Fagiolo dell'Arco quindi quell'opera che rievoca quell'Apollo del Belvedere che viene chiamato Le Chant d'Amour che lui che De Chirico dipinse a Parigi nel 14 questo è l'Apollo che De Chirico dipinge per se stesso per se stesso ispirandosi ad un'opera di Stravinsky e riprendendo il tema delle Chant d'Amour che lui aveva dipinto a Parigi nel 1914 questa opera di De Chirico è stata conservata dall'artista in casa con la sua cornice come lo vedete adesso fino alla morte proprio perché lo considerava uno dei quadri più significativi della sua storia di pittore poi fantastico il Doudreville divisionista del 1920 opera enorme 75 per un metro e venti opera ancora divisionista meravigliosa di Leonardo Doudreville e poi andiamo nella seconda metà del ventesimo secolo con un'opera storica polimaterica di Roberto Crippa addirittura del 1950 accompagnato da una delle opere più rare di Elio Marcheggiani questa grammatura di colore del 1975 questa grammatura di colore dipinta addirittura su intonaco dipinta addirittura su intonaco opera del 75 di Elio Marcheggiani amici mi sto battendo per voi mi sto battendo per voi cercando di darvi quanto di più raffinato quanto di più significativo quanto di più speculativo in virtù di quello che sta accadendo sul mercato internazionale nei prossimi dieci anni di mercato allora dieci opere vincenti molto diverse l'una dall'altra proprio perché coprono le varie tendenze culturali del ventesimo secolo ora siamo nel momento magico della trasmissione ora un'opera ve la devo far confermare ora siamo nel momento magico molti hanno cominciato a approfittare del momento magico della mia trasmissione perché c'è un momento nel quale sulla prima opera che mi chiederete la prima telefonata che arriverà chiedendomi in maniera specifica una delle opere che sono sul set ma un'opera sola e una sola telefonata la prima e una sola telefonata la prima ecco io gratifico colui che mi fa immediatamente questa telefonata indicandomi un'opera che desidera acquisire che desidera mettere in collezione io personalmente prendendomi tutte le responsabilità gli faccio un trattamento di favore un prezzo incredibile un prezzo incredibile ma una cosa del genere proprio perché è corposa proprio perché è significativa la posso fare su un'opera soltanto ecco perché il primo che mi telefonerà chiedendomi in maniera specifica l'opera che desidera acquisire otterrà un prezzo che nessuno gli ha mai fatto e nessuno gli farà mai ma siate velocissimi adesso la regia vi farà rileggere le dieci opere a vostra disposizione la prima richiesta la prima telefonata che mi chiede un'opera da acquisire avrà un trattamento incredibile via da questo momento grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un attimo, un attimo, un attimo perché siamo in trattative e sto cercando di fare i prezzi più clamorosamente convenienti. Mi inquadri il De Chiri con un momento? Mi inquadri il De Chiri con un momento? Grazie a tutti. Meraviglioso il De Chiri con un'opera di questo livello nel momento in cui riuscite ad avere un prezzo magico. Nel momento in cui riuscite ad ottenere un prezzo particolare. Io mi raccomando a voi, voi sapete quello che vale. Provate a chiedere a lui una grammatura di colore del 1975. Provate a chiedere a lui una grammatura di colore del 1975 di queste dimensioni di quelle dipinte su intonaco. Perché l'opera che state leggendo non è piccolina ma è 53 per 75. Ma è 53 per 75. Quindi perdere un'opera del genere a un prezzo che ho cercato di farvi letteralmente al costo, ma non lo comprate da nessuna parte, ma non lo comprate nemmeno dall'artista a questo prezzo. Questa è la verità. Le opere giuste, le opere da museo bisogna saperle comprare nel momento in cui avete la possibilità di acquisirle a un prezzo di assoluto favore. Ed ora abbiamo visto dieci opere classiche, no? Perché Marcheggiani è un artista che ha la sua età, Crippa è un artista storico, Doudreville, De Chirico, Schiltian, Spadini, Campigli, Sughi, Tamburi, sono tutti artisti storici. Ora voglio fare una cosa diversa. Adesso voglio presentarvi un'artista straordinaria, un'artista straordinaria, donna, contemporanea. Uno di quegli artisti al femminile, giovanissime, è che stanno scalando la notorietà internazionale. Guardate cosa sono le mitiche opere della memoria di Marta Mezzinska. Lei, voi dal nome ve ne rendete conto, è un nome polacco, lei ha uno studio a Barsavia e uno studio a Milano e sta aperto da poco uno studio a Londra che sta avendo un successo clamoroso. Marta Mezzinska è l'artista della contemporaneità che racconta la memoria recente. Qui vedete queste facciate di palazzi con i graffiti alla K-Tagging, praticamente, così come vedete i mitici negozi di nicchia specialistici che un tempo erano comuni nelle nostre città e che stanno diventando sempre più rari e che stanno scomparendo proprio in funzione delle multinazionali, delle imprese enormi. Quindi letteralmente un'artista che fissa dei particolari del vissuto della città che inevitabilmente diventano memoria. Questo è un'artista che sta volando, questo è un'artista che letteralmente sta volando. Guardate tutti i critici internazionali, tutti i grandi musei oggi vogliono una mostra di Marta Mezz, come si fa a chiamare lei, per semplificare il nome, a me piace chiamarla con il nome intero, la Mezzinska, ma ho tre gioielli, ho tre opere assolutamente superiori, tre opere veramente di grande qualità. Vedete? Questi sono gli artisti dei quali potete acquisire delle opere di grande livello, questo Monster è un 80x80 ad olio su tela, questo gioiellino al numero 12 è un 50x50 ad olio su tela, la Charlotte de Lisle è una delizia 30x30, sempre ad olio su tela. Quindi tre gemme di un'artista emergente ai massimi livelli, di grande bellezza, di grande qualità, che avete la gioia di poter acquisire a un prezzo irrisorio, che avete la gioia di poter mettere in casa a un prezzo irrilevante. Questi sono i momenti magici delle nostre trasmissioni, presentarvi le novità più eclatanti del sistema culturale contemporaneo, quegli artisti ancora giovani a cui si aprono le porte del mercato internazionale, acquisire le opere migliori, acquisire le opere di maggior livello a un piccolissimo prezzo. Queste sono le opere che quelli della mia età devono comprare per i figli e che i più giovani devono comprare per la famiglia. Queste sono le opere che oggi comprate a un piccolo prezzo di artisti che inevitabilmente diventano protagonisti e quindi con un valore di mercato completamente diverso. Tre opere vincenti. Poi dipinte in maniera raffinatissima, questa è tutta pittura, questa è tutta pittura, non c'è la fotografia. Quindi dipingere a questo livello significa possedere i requisiti di grande qualità. Tre opere letteralmente fantastiche. Dai, 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 siate veloci. Il prezzo è irrisorio, il prezzo è piccolissimo e vi sto dando la possibilità di prendere le opere di grande qualità di un artista superiore ad una condizione di prezzo inesistente. Tre opere vincenti, tre opere di grande livello, tre opere di fascino superiore di Marta Mezzinska. Allora, cosa? Dai, prendetele di corsa, prendetele di corsa, vi sto dando delle opportunità che non potrete ricordare per tutta la vita. Guarda la bellezza di queste opere. Inutile dire che sono tre opere clamorosamente vincenti. Inutile dire che sono tre opere incredibilmente vincenti. Mi iperraccomando. Poi, se sentite i prezzi, veramente ve le sto dando a nulla. Letteralmente vi sto dando l'opportunità di acquisire delle opere superiori a nulla. no, 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 è pittura pura. Guarda i riflessi delle macchine della vetrina, i riflessi della facciati della facciata nella vetrina. Qui bisogna saper dipingere a livello qualitativo clamoroso, addirittura superiore. Letteralmente superiore. le opere giuste. Le opere di grande livello. Le opere di grande qualità. e oltretutto i prezzi, poi avete la possibilità di rateizzare la cifra, quindi i prezzi sono letteralmente inesistenti. Sono letteralmente inesistenti. Tre gioielli di Marta Mezzinska a un prezzo totalmente inesistente. Amici, io sono dalla parte vostra. Ci avviamo alla fine di una trasmissione che, ve lo dico, resta nella storia per i contenuti. Le opere che vi ho fatto vedere oggi non potrete che rimpiangerle, non potrete che rimpiangerle, ma tutte, dalla più costosa a quella che vi sto dando, questa Charlotte dell'Isla, sai a che prezzo te la faccio comprare? Sai a che prezzo te la faccio acquisire? A 1200 Euro. A 1200 Euro. Vi do le opere di Marta Mezzinska a nulla. E ve le pagate come volete e quando volete. Ma c'è il Marchegiani su Intonaco del 75, ma c'è il Crippa del 50, ma c'è il Dudreville, il De Chirico, lo Sciltian, il De Pisis, quel gioiellino di tamburi. Dai, amici, ci avviamo verso la fine della trasmissione e i prezzi che vi sto facendo sono irripetibili. Sono irripetibili. Poi voi mi direte, ah, se avessi preso quell'opera. Sono tutte opere che non potremo che rimpiangere, proprio sul piano della qualità, proprio sul piano del prezzo. Sono tutte opere che non potremmo che dire avrei dovuto comprarle tutte, avrei dovuto costruire una collezione su quelle opere. Dai, 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 abite, delle opportunità letteralmente epocali. Avete, e poi io lo so, i prezzi che vi posso fare adesso. Non ve li farà mai nessuno. Quindi è questo il momento di approfittare dell'opportunità storica che vi sto dando. Poi c'è quell'opera di Sughi che è di una bellezza. È una di quelle tele di Sughi storiche. È una di quelle opere di Alberto Sughi che si riallacciano ai cicli internazionali di Sughi. Io ricorderò sempre, io ho adorato l'opera di Sughi, fino a quando non è caduto nelle grinfie di uno dei mercanti più commerciali, più… ma dai, non diciamo di più, chiamiamolo commerciale e basta, che lo ha costretto a abbandonare i grandi cicli a cui Sughi ci aveva abituato, la storia di un prete, la cena della borghesia, i cicli beconiani come quello a cui appartiene quest'olio straordinario, per accedere a una maniera di dipingere sempre di altissimo livello, perché Sughi è stato uno dei pittori di figurazione italiani più bravi del dopoguerra, ma più decorativi. E questo è stato deleterio, perché Sughi, quando è così, quando è del ciclo della storia di un prete, quando è del ciclo della cena della borghesia, non ha niente da invidiare ai più grandi pittori di figurazione europei ed inglesi. Questo è un quadro da fantascienza, che hai la gioia di acquisire a un prezzo inesistente, approfittane, approfittane, un olio su tela di una bellezza inaudita di Alberto Sughi, che oltretutto ve lo stanno dando ad un prezzo che non ha nessuna ragione di essere. Guarda, per la datazione del dipinto siamo proprio nei primissimi anni 70, può essere il 72 e 73. Quadro superbo. Quadro di qualità straordinaria. La trasmissione sta avvolgendo verso la fine. È il momento di approfittare delle opportunità che vi sto dando. È il momento di bloccare le opere ipervincenti. Dal Sughi meraviglioso, il gioiello di Tamburi, il Campigli del 1940, quella Natura Morta di De Pisis, quell'opera di Armando Spadini dei primi anni del Novecento, per non parlare del De Chirico, per non parlare del Doudreville. Tutte opere proiettate verso il grande mercato di domani. Tutte opere proiettate sono le opere sulle quali investire oggi il denaro. Vi prego, non comprate il sughi decorativo, non comprate il sughi delle donnine al bar. Ve lo chiedo per favore, perché se no veramente, mamma mia, tutto il mio amore per le opere per le opere d'arte che restano a livello museale va a disintegrarsi. Sughi, se non è tragico, se non è beconiano, se non è di denuncia, di denuncia di comportamenti sociali, non è Sughi giusto, non è il Sughi che interessa la figurazione internazionale. Comunque, ciascuno ha diritto alle sue scelte. Vi ho spiegato tante volte, e se volete ve lo spiego ancora, come funziona il mercato. Ed ecco perché mi permetto di consigliarvi, ed ecco perché mi permetto di mettervi nella condizione di investire in maniera proficua il vostro denaro. oggi c'è un ritorno al novecento. Perché così come vi stanno vendendo e vi hanno venduto negli ultimi anni a grandi prezzi tutti gli artisti d'avanguardia delle cosiddette avanguardie della seconda metà del ventesimo secolo. Mentre gli operatori finanziari che vi vendevano i Fontana, i Rauschenberg, gli Shimamoto, gli Ai Weiwei, eccetera, con il denaro guadagnato attraverso la vendita di queste opere, hanno comprato i grandi quadri del novecento italiano, francese, del primo novecento tedesco, nel momento in cui i prezzi sono calati. E con gli utili enormi ricavati dalle vendite imposte dal sistema a tutti voi, hanno fatto razzia dei grandi quadri, degli grandi pittori del novecento a prezzi ancora piccoli. E adesso comincia la ripubblicizzazione del novecento internazionale, che sarà il protagonista del mercato dei prossimi dieci anni. Quindi se voi il De Chirico giusto non lo comprate adesso, se voi il Doudreville storico, il De Pisis storico non lo comprate adesso, nei prossimi mesi e nei prossimi anni ritroverete il mercato di questi artisti alle stelle. Ve l'ho detto quando Celant stava preparando l'esplosione dell'arte povera, ve l'ho detto quando Achille Bonitoliva stava imponendo la transavanguardia nel mondo. ve lo sto dicendo adesso che comincia l'ennesima speculazione di sistema. Le opere che vi sto facendo vedere oggi ve le ricorderete per tutta la vita, per il valore storico e per i prezzi clamorosi a cui ve le sto proponendo. E voi state dolorosamente esitando. E voi state dolorosamente esitando quando su queste opere non dovreste avere la minima esitazione. Il De Chirico era una delle opere di Giorgio De Chirico che io gli ho visto dipingere in casa sua e che è rimasto in casa sua fino alla scomparsa di Giorgio De Chirico. Poi la moglie Isa se l'è venduta. Ma con De Chirico vivo quest'opera è sempre stata nel suo appartamento a Piazza di Spagna, nel suo attico a Piazza di Spagna dove adesso c'è la fondazione De Chirico. Non comprare quest'opera è da miopi. Soprattutto quando avete la fortuna di comprare un'opera così significativa ad un prezzo del genere. Poi vi comprate l'opera di De Chirico banale, il cavallino col drappo rosso e il castello. Ma queste sono le opere internazionali da museo di Giorgio De Chirico e non a caso lui la conservava in casa sua. Alla faccia di quel signore che vorrei sapere chi è stato. Per favore, quando avete le grandi opportunità sappiate ne approfittare questa gemma e quest'opera clamorosa, le vedi queste due opere, tutte e due finiscono nei grandi musei e nelle grandi aste internazionali. A dispetto della dimensione contenuta questa è un'opera di grande importanza di Giorgio De Chirico, perché ne rispecchia i valori classici, i valori della grecità. Riprende un'opera famosissima che De Chirico dipinse nel 1914 a Parigi che si chiamava Les Chants d'Amour. che si chiama Les Chants d'Amour. E questa veduta, questa immagine di Apollo è l'immagine del Dio più ambiguo, è il Dio più terreno, perché può essere apportatore del bene, può essere il guaritore e può essere l'apportatore della pestilenza. Quindi è proprio l'esaltazione della divinità greca che assorbe l'umanità, i difetti dell'essere umano. questo è un quadro fondamentale come il Doudreville del 1920, è un quadro fondamentale come Pelizza da Volpedo come Segantini, questo è uno dei quadri più importanti del divisionismo italiano ed è stato dipinto nel 1920 ed è stato dipinto da Leonardo Doudreville nel 1920. Perdere due gemme storiche di questo livello è inammissibile, specialmente quando ho la fortuna di poterle proporre a un prezzo inaudito, specialmente quando ho la fortuna di poterle proporre a un prezzo piccolissimo. E' l'altra opera da sogno, eccola qua, quella gemma di Armando Spadini dei primissimi anni del Novecento, 1902-1903. Questo ritratto di bambino che si appropria da degli strumenti del pittore è di un fascino e di una bellezza inaudita, è un quadro che ha 120 anni, è un'opera preziosa che ha 120 anni e vi do la possibilità di prenderla a 7500 euro. Amici, quando capitano le grandi opportunità bisogna saperle bloccare quel tamburi, quel tamburi, quel sughi, quel depisis, le opere preziose di Marta Mezzinska a un prezzo letteralmente inesistente. Che fate? Perdete le opere storiche? Perdete le opere fondamentali? perdete le opere di livello assoluto quando avete la possibilità di acquisirle ad un prezzo che non vi è mai capitato io ho i prezzi veri, i prezzi veri, i prezzi di mercato li so, i prezzi delle aste li conosco quindi avere l'opportunità di acquisire opere di questo livello a questi prezzi è veramente irrinunciabile poi c'è una mia disponibilità particolare a favorirvi nel momento in cui mi chiedete un intervento di favore a vostro vantaggio, vi dico approfittatene perché questo è il momento giusto per bloccare le opere poi non le ritrovate, un De Chirico così a questo prezzo lo compra un mercante, un Dudreville del 20 un Armando Spadini di quel livello, quel sughi, quel tamburi, quel marcheggiani del 75 dai quella grammatura di colore su intonaco non è che la ritrovi, delle opere di Marta Mezzinska non parlo nemmeno delle opere di Marta Mezzinska a quei prezzi non parlo nemmeno poi vai sul mercato internazionale e vai a vedere quelli che sono i prezzi reali di Marta Mezzinska Amici, 18 minuti, 18 minuti per decidere, 18 minuti per bloccare le opere vincenti approfittatene perché tra poco, addio, approfittatene perché è il momento di bloccare le opere vincenti poi approfittate del fatto che in questo momento io sono totalmente dalla vostra parte poi approfittate del fatto che in questo momento faccio di tutto per accontentarvi crea stai facendo dei prezzi clamorosi ma dovete approfittarne adesso per bloccare l'opera poi il pagamento vi mettete d'accordo con la sede commerciale ma dovete bloccare l'opera adesso non la trovate più ve la portano via i commercianti ve la portano via i rivenditori dopo la ritrovate a 80 mila euro ad artefiera a Milano o alla fiera di Bologna sappiate comprare le opere giuste al momento giusto sappiate bloccare le opere vincenti nel momento in cui avete l'opportunità di pagarle il minimo è il minimo possibile oggi le opere banali di De Chirico le pagate 70 mila, 80 mila, 90 mila il cavallino banale non l'opera che De Chirico ha voluto ricostruire dalla memoria dell'opera del 1914 e che ha voluto custodire per tutta la sua vita in casa sua quindi l'opera da grande museo ma quello che vi sto dicendo l'ha scritto Maurizio Pagiolo dell'Arco nella sua autentica perché Maurizio Pagiolo con me insieme abbiamo visto quest'opera in casa di Chirico non una ma decine di volte sempre, ogni volta che siamo stati ricevuti in casa di Chirico abbiamo visto quest'opera e quando un artista tiene gelosamente un'opera del genere vuol dire che ha un significato particolare nella sua memoria e nel significato dell'opera dai per favore siete fortunati e state prendendo a calci la fortuna siete iper fortunati praticamente è come uno che si schiaffeggia da solo è come uno che proprio sbatte la testa contro il muro da solo per sua scelta non commettete un errore macroscopico nel non bloccare un'opera di questo livello di Giorgio di Chirico mi ringrazierete tutta la vita questa non è che aumenta mille una volta questa oggi vale il doppio oggi vale il doppio e ve lo dico finisce in un museo finisce in una collezione pubblica dammi retta quando ti capita il gioiello quando ti capita l'opera particolare che ha una storia particolare prima di rivederla non è un'opera normale non è un'opera banale non è un'opera da commercio è un'opera da grande collezione precipitatevi perché è un momento fantastico e quello che vi sto dicendo sul De Chirico lo ripeto con accenti diversi sull'opera di Doudreville naturalmente parliamo di un altro momento storico parliamo di un altro artista ma è un'altra opera pazzesca irrinunciabile di Valenza Museale opera letteralmente da sogno dieci minuti alla fine eh ma dieci minuti che non dimenticherete mai ma dieci minuti che non potrete dimenticare mai dal Sughi allo Spadini al Tamburi al Crippa del 50 di una bellezza unica dal Marcheggiani del 75 quindi tutta una serie di opere veramente particolari tutta una serie di opere letteralmente da grande collezione e che vi state lasciando sfuggire ve lo devo dire eh non c'è una giustificazione che poi ci siete eh perché lo vedo che poi ci siete quindi sai dice la trasmissione eh non c'è pubblico va bene non mi vedono va bene ma io lo vedo che ci siete e leggo e leggo tutta una serie di indecisioni non ingiustificate assurde assurde perché queste non sono opere che capitano con continuità non sono le opere commerciali non sono le opere che vedete da me e vedete da altri emittenti eh sono opere di qualità e di storia superiore perché crippa così eh del 50 ne avrò visti dieci nella mia vita eh Carmelo due eh crippa così del 50 poi già quando cominciamo con le spirali del 54 e del 55 già eh se ne vedono di più ma così l'ho visto solo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma quella vera quella storica eh questo è il massimo di crippa eh un'opera eh che De Chirico ha custodito per tutta la vita eh l'ha voluta l'ha fatta l'ha custodita l'ha tenuta lui eh per il segno per l'ambiguità del soggetto eh per il richiamo al 1914 eh per il richiamo all'infanzia in Grecia collezione privata a Giorgio De Chirico ma per iscritto ma dove la troverete mai ma dove la troverete mai vedete dove veramente eh uno perde la tremebonda eh dice oi pensare ma quando mai ti capiterà un'opportunità del genere pensare fosse collezione privata di chi? eh di Picasso eh tu pensa eh quadro collezione privata Picasso eh opera collezione privata Duchamp eh opera collezione privata Rauschenberg eh ma quando mai sul mercato eh ti capiterà un'opportunità del genere quando mai quando mai quando mai amici eh tocca a voi eh tocca a voi tocca a voi avete sette minuti poi eh tanto io suggerirò a Gabriele eh di aumentare il prezzo perché è assurdo venderlo al prezzo eh che vi ha detto Clea oggi è assurdo e voi eh state perdendo un'opportunità storica ma sia sul De Chirico che sul Doudreville per non parlare poi in chiave minore eh su tutte le altre opere eh tutte eh di grande livello di grande qualità amici tocca a voi pochi minuti pochi minuti usateli bene eh usateli con intelligenza eh usateli a vostro favore pochi minuti eh sappiate intervenire al momento giusto io Carmelo non me lo spiegherò mai ma più ci penso più dico eh che mio nonno aveva ragione mi diceva non fare mai un piccolo prezzo non fare mai un prezzo di favore quando fai una cosa del genere il compratore non compra eh eh ed è a ragione lui bisogna raccontare la fava e la rava bisogna raccontare le favole eh il buon venditore è quello che impone eh un prezzo massimo eh favorirvi è un clamoroso errore e quello che sta accadendo oggi eh ne è eh la dimostrazione evidente sapete che cosa ho fatto poi domani sarete in cinque in sei in sette e naturalmente uno solo eh potrà godere eh dell'acquisizione eh ma state commettendo eh un errore epocale che io non posso che denunciare eh poi eh ve ne accorgerete poi ne sarete coscienti eh perché poi nella vita eh le verità vengono fuori eh le verità di mercato vengono fuori eh le verità obiettive vengono fuori quando di un'opera magari del 50 di Doudreville eh vi sentirete chiedere 70 mila euro eh vi ricorderete dell'opportunità pazzesca eh che avete avuto oggi eh ma proprio eh non vi renderete conto eh che eh la dimensione economica e la dimensione qualitativa eh delle opere che ho avuto la gioia di potervi mostrare oggi eh è irripetibile è letteralmente irripetibile siamo alla conclusione eh e leggo, vedo eh un mare di indecisi eh vorrei fare i nomi eh uno per uno eh per ripeterveli tra qualche giorno eh perché non ci vorranno gli anni eh basterà eh la visita a un museo eh visitare una buona galleria eh e rendersi conto eh dell'errore macroscopico eh che state compiendo in questo momento che poi prenotare l'opera eh non significa che dovete fare un assegno eh intanto bloccate l'opportunità guardate con i vostri occhi e andate a cercare le verifiche eh di quello che io vi sto dicendo poi ci sono i documenti poi c'è la storia eccetera ma basta guardarsi intorno eh per capire eh che quello che vi sto dicendo non solo è la verità ma è la verità che accompagna un'opportunità unica e le opportunità quando sono uniche non sono ripetibili mai eh un'opportunità unica eh bloccate queste due opere nel vostro interesse bloccate queste due opere nel vostro interesse ve lo ripeterò fino al parossismo è la verità bloccate queste due opere nel vostro interesse amici mi devo fermare eh vi ho fatto prezzi clamorosi eh vi sto consigliando delle opere che so essere irripetibili per valore storico per valore culturale e per valore commerciale quindi veramente siete di fronte al meglio che potete bloccare fatelo, fatelo, fatelo è indispensabile naturalmente mi devo fermare e vi voglio invitare eh alle trasmissioni di domani eh domani ho una collezione completamente diversa eh con dei contenuti eh completamente diversi ma accattivante come non mai e soprattutto eh come sta accadendo in questi giorni sono gli ultimi giorni nei quali potete approfittare di prezzi particolari tanto con ottobre eh cambia tutto con ottobre eh ricomincia il mercato vero ricomincia il mercato eh della evoluzione e dell'espansione quindi eh avrete delle sorprese incredibili mi fermo qui eh permettetemi di ringraziare Clea, Raffaela, Carmelo, Francesco tutti coloro eh che hanno collaborato a questa trasmissione naturalmente un grazie particolare va a voi che mi avete sopportato eh fino a questo momento vi invito alle trasmissioni di domani domani sarò con voi la mattina presto, presto relativamente presto eh l'appuntamento è per domani mattina alle 10 non mancate perché sarà una trasmissione importante approfittate eh dei pochi minuti nei quali Clea sarà ancora a vostra disposizione eh per bloccare le opere alle mie spalle con tutto il cuore alla prossima grazie a tutti possiedi una bella collezione di arte moderna e contemporanea che vuoi realizzare devi mandare immediatamente le fotografie delle tue opere le...